hallo amigas e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su among the sleep ok già vedete questa schermata cosa non doveva succedere però in pratica stiamo registrando pensavamo che stiamo registrando dicendo davvero niente però quando eravamo già scesi nel tubo perché appunto siamo tornati diciamo alla casetta abbiamo messo il carione che abbiamo preso da quel parco giochi sopra al parco giochi ovunque e vabbè siamo scesi qua sotto tutto ciò pensavo stavamo registrando e invece no però quando siamo scesi dal tubo aveva già salvato cioè aveva già l'ultimo checkpoint e quindi quando abbiamo iniziato già era già stava qua quindi vabbè qui potete vedere bellissima zona divertente molto molto invitante nel profondo del cuore con un albero dentro quindi tipo qua non c'è niente che ci sta sinceramente non mi fido tanto perché ci sono una trappola no ma io non lo so come facevo forse vi a per per scorgersi un po come che lo facevo pure abbraccia tetti mi metto paura p no oddio teddy aiutami ho bisogno di te ma ce l'hai ecco vedi e si inclina per vedere ecco forse era f e si ma evidentemente non ci sta bisogno di tetti che ne so vabbè però il tasto quello aggirano è non so vabbè tetti mai mai che quando c'è bisogno esce tetti in questo prezzo credo non ci sia proprio aiuto con le piante dentro il caso perché bene degli abeti che sono si ma lo fai a piantare una roba e ci sono proprio tronchi ci sono nati no infatti che questo è proprio tronco tagliato credo addirittura siamo questo ramo siamo anche attraverso questo altro ramo vai vediamo chi c'è chi è vai apri continua tu vai e non ci so gioca io non fa niente non c'è niente che roba è un cuscino che è una sedia no non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente ma un po' solo il punto dei miei un buzze e ci trova sufficiale lo devi comporre forse ed è venerdì e sono questi pezzi no e ci mancano tre pezzi della loro reggita devo andare in giro vai cerchiamoli e a dove cerco scusa e c'è la parte dove penso no vedi sopra la sedia se puoi salì magari sopra la quello scrittoio si posso salì ah vedi sotto no non so niente ah non puoi scoprire niente là no oddio cadu ehm sono un po' bloccata ok più che me oddio ho paura che era? ma l'avevo visto che tutti sono in piedi e pensavo fossero le ultime persone le foglie sono le foglie vedi sopra la quadro se c'è qualcosa no oh eccolo qua eccolo qua perfetto tagliti l'hai preso o è caduto? non lo so ma l'hai preso penso eh vedi sull'inventario non lo fa prima niente allora vai ok io direi di posizionarlo direttamente là eh ma se non ce l'ho si che ce l'hai l'hai preso no? un po' e prova dai secondo me te lo dice come stai là no no che cavolo è successo? oh mio dio hai paura stai riuscendo? no ti sei accucciato non ti rende tipo un colpo tremendo boh l'ho preso un cavolo allora e dove è andato? ah eccolo ah eccolo si parla sei mamma mia e chi l'aveva visto? che rimbambiti oh ma lo devi pure posiziona giusto? boh eh vedo di sì ma devi vedere prima com'è allora ma non è proprio difficile ecco vedi è difficilissima di quasi sulla sinistra eh sulla bassa sinistra ah che figiata è scomparsa una pianta sulla da sinistra quindi sicuramente altri pezzi stanno là stanno là vicino ma è un quadro che è no? no è una porta un quadro? ah un quadro è carino si muove mi sembra che sarà tipo mosso no ah sì sì come ti avvicini? vai vai forte sta salvando una cosa bella mmm ah rimane così sta salvando qualcosa che forza vai vai entra entra ma che entra entra dai dai entra vai io ti dico ragazzi io non li porterò mai più nella mia vita cioè ve lo dico basta no ma dai cammina finissi qua ma ti prego li fai apposta con me io c'ho più paura di te vai chi è? cammina no non lo so non so le mie tasti io questo 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 vai forza e coraggio io le cose me le sogno la notte non so scherzare papà papà già è tardi che martè con la bollicina ci sta qualcuno qua sotto ma cosa sarebbe il ponte quello che abbiamo visto? di baracca papà vai vai no cioè le mie miglia no no dai vai vai avanti che direi di mettersi qui sotto no è che non ci sta niente è di stare al sicuro ma non esce nessuno non esce non lo vedi? no si si vai horror sono troppo prevedibili vai vai yeah raccogli i funghi non posso ah vabbè dovresti passa forse là o forse qui dentro ahhh è un tunnel chi è? c'è qualcuno là? no? ah è una luce è una luce se qualcosa è tipo qualcuno sta a mangiare io mi girerei così tornerei là dentro adesso va il puzzle e morirei di fatto eh no allora morirei direttamente là qua davanti è un libro? no eh però non credo ci arrivi pure se mi alzo proprio non credo e provaci no che ce l'hanno messo a fa' che borghi che borghi ce l'ho andava ah mi sa di non ci posso andare qua come prendi il libro vedi se te lo da mettiti in piedi mi fa male il collo ma non credo non ci arriva neanche minimamente guarda guarda ma c'è un'indicazione? no ah questa è di sopra che radici non mi fido lo stesso non mi fido lo stesso ok poi posso tipo aprire? si perfetto perfetto cosa? vai buttati ma tu non ti metti paura solo perchè sto a giocare io no se giochi tu vedi non ho paura occhio eh oh io fino adesso ancora non ho visto nessuno quindi che paura dovrai avere scusa eh questo è il momento del respiro respirate tutti intieme a me ok abbiamo fatto boom papà basta dai non mi fa uscire come non ti fai uscire? sei rimasto in questo ok vai 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 che io non riesco a passare non riesci a rimanere a saltare aspetta oh è potente questa bambina bambina o bambina? bambina papà e lo dice all'inizio no tu si respira c'è qualcuno là perchè le bollicine quando tu respiri sott'acqua ma come non c'è nessuno io fino adesso non ho visto nessuno aspetta 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 e spera che chiaro lo so tutti uguali cioè non lo so capire la bambina che va in giro di notte in uno stagno ci sono delle case abbandonate sono tornati sempre là no non lo so c'è un'altra parte o no non lo so ma tu sei scesa là e ti sei messa no ah si là sotto sta no questo non si apre perchè ritorni dalla parte opposta dove sei entrato dire perchè tu sei scesa da qua no? ah no? comunque ti ritrova ancora gli altri due pezzi del parasol ah ok ok quindi non c'è niente c'è ste piante dappertutto eh cioè come fa sta acceso il fuoco là se non c'è nessuno ok ah non spendi il fuoco là qua buttati che mossa arriva il babbo natale ah sicuramente deve entrare il babbo natale si cavolo va mi disegno? no che roba no cosa strana ok scende da là ah è acqua infetti quella si è fermata la musica no no io l'ho ancora messo sarà per modo la musica e vai vai prosegui vai fatti coraggio ma non faccio coraggio non voglio ci sono ragazze tutti buonanotte ecco l'altro no no si che ti piacesse ti piacesse ti piacesse ti piacerebbe resse vai oh che brutto finalmente che è una rana ah no un buon pazzetto con una testa il giocattolo brutto è donna tipo una lumaca ma sembra quello di super mario bros il tartaruga è la non credo un po' bruttino questa roba è fatta male oh che è l'altro pezzo quello? che si vede no? ah sta richiudendo perchè? che è quello? oddio si vai 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 secondo me riesci là e lo ti rimetti ok eh? vai eh? perchè? dove vai mo? paura ok ragazzi io direi che possiamo fermarci con questo episodio lo so che sto dura lo so che sono molto cattiva però troppa paura ma dai proseguiamo ma dai anche perchè siete anche lamentati che i video sono troppo lunghi trovando le robe quindi direi quindici minuti circa vanno bene beh ragazzi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti